Dalla straordinaria professionalità, Sinda Giovanissimo ha dimostrato di essere un vero e proprio mago della meccanica che con pazienza e impegno riesce a rianimare motori di automobili che per altri colleghi sarebbero giunti inesorabilmente al capoline. Apprezzato da tutti per la sua disponibilità e donestà, nonostante i 70 anni di età, continua ad essere nel pieno della sua attività professionale. A Domenico Savio, di cui è stato il meccanico di fiducia insieme ad Arcangelo Di Palo e Giovanni De Luca, lo ha sempre legato un reciproco rapporto di stima. Il premio internazionale Domenico Savio, sezione lavoro, viene conferito a Fiorenzo Uomo, un grande artigiano, un grande lavoratore. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Disponibilità La loro disponibilità per tutti qua E' un amico Grazie a tutti Come vedete i lavoratori sono di poche parole, però Fiorenzo è anche un lavoratore che ripeto, dalla mattina alla sera, trovarlo a 70 anni, steso sotto una macchina, io non mi saprei più rialzare e ne ho 50, quindi condimenti veramente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.